L'area che tirava faceva facilmente presagire che il cambio della guardia alla guida dell'ufficio speciale della ricostruzione fosse una cosa rama imminente, in coincidenza con la scadenza del contratto al 31 dicembre dell'ingegnere Marcello D'Alberto. Il presidente vicario Giovanni Lolli ha infatti affidato la guida dell'USR a Vincenzo Rivera, a cui l'anno 47enne, direttore generale della regione Abruzzo, che sarà coadiuvato in qualità di subcommissari dai dirigenti regionali Giancarlo Misantoni e Antonio Iovino, rispettivamente del Genio Civile di Teramo e della Protezione Civile dell'Aquila. L'argomento di costruzione è stato al centro della nota inviata dall'Ordine degli Architetti di Teramo, intitolata significativamente 2019, se la politica non ci ascolterà ci faremo sentire noi. In questa settimana e nelle prossime abbiamo assistito e assisteremo a visite di leader politici nazionali e locali nei nostri territori in vista delle elezioni regionali. Tutto è buono per far vedere l'interesse del politico di turno per gli elettori, che siano singoli o rappresentanti di gruppi sociali, più o meno numerosi. Grande è dimenticato al solito il mondo delle professioni tecniche, quel mondo al quale tutti, ma proprio tutti, chiedono i sacrifici nelle emergenze, oramai costanti, pretendendo prestazioni gratuito quasi, salvo sminuire se non disprezzare il lavoro di pianificazione e progettazione ritenuto secondario, anzi di impiccio rispetto al fare. Al Consiglio di Stato pende ancora una causa tra architetti e ingegneri contro la regione Abruzzo sui minimi tariffari. La ricostruzione non parte e molti cercano di incolpare i tecnici frenati da norme e burocrazie incomprensibili. Insomma, del mondo delle professioni tecniche, autonome e pubbliche non importa a nessuno. La conclusione della nota contiene un messaggio chiaro. Abbiamo scritto i parlamentari abruzzesi eletti in Abruzzo più volte, ci hanno risposto sempre e solo un paio di loro. Ora si torna al voto in regione. Se non volete ascoltarci voi, ci faremo sentire noi.